Appena arrivate c'ha già i due salti, quindi non male, ottimo lavoro. Stiamo aspettando perché appunto dipenderà anche dal punteggio alla trave di una delle americane e per sapere la vittoria dell'allround dobbiamo appunto tornare al 2009, quindi parliamo di tanti tanti anni fa per trovare una italiana sul gradino più alto del podio del concorso generale del trofeo Città di Jesolo anche se in quell'edizione appunto non c'erano Stati Uniti, Russia o Cina, le grandi nazioni regine di questa disciplina. Molto bene invece la prima diagonale della ginnasta Ceplinsky Maria, un doppio teso molto molto ben eseguito e uno zuccare, uppala, in seconda diagonale, scusate i versi quando arrivano un po' male, si ferma il cuore ogni volta. Uno zuccare è arrivato un po' basso con le spalle. Un pennello col giro con gamba a 90 gradi e un salto strag. Terza diagonale, doppio raccolto, oh bellissimo, doppio raccolto salto avanti, stupendo, molto bello. Benissimo, vedere il l'aria colombo che si diverte. Io tantissimo, perché quando c'è qualcosa di bello da vedere. Esatto, tu trasferisca queste tue emozioni anche a casa. Poi è molto bella anche questa musica, no? Sì, sì, molto allegra. Fa molto bello l'esercizio, è eseguito anche in maniera ottima, bene anche il doppio carpio finale e finisce. Brava, 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 brava. Bella, bella. Allora, la classifica all'around vede al momento in testa sia D'Amato.